Si è parlato del campo energetico che ha ogni essere umano, che è estremamente collegato con la salute. Hanno dato in qualche modo indicazioni su questo, su come poi migliorare il nostro stato di salute. Allora la psiche, che è l'anima, l'anima i greci la chiamavano psiche, ce lo dà il sole, quindi il sole è l'alimentatore della psiche, ma noi se vogliamo alimentare il nostro campo, la disciplina più efficace e rapida per guarire da tutto è ama il prossimo tuo come te stesso, che non è un fatto sentimentale, ma di dedicare la tua vita a risolvere i problemi del mondo, cioè impegnarti in questo, sempre di più, lì guarisci da tutto. Quelli con la vita e con la morte ci giocano come noi da bambini giocavamo con le birille, con le palline di vetro, non hanno nessun problema, resuscitano i morti, possono fare qualsiasi cosa, sono gli dei.